È vero, è vero, il lunedì mattina è sempre un momento drammatico della settimana, ma quest'oggi possiamo dirlo, oggi è un lunedì mattina, bellissimo. Ciao e bentornati sul mio canale, benvenuti nel video del giorno dopo di Lecce-Juventus 1-1. Prima di cominciare a parlarne invito come sempre, lasciate un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste già fatto e fatemi sapere con un commento qui sotto la vostra in merito al pareggio di ieri sera. Allora, c'è da dire una cosa, c'è da dire che la Juventus è vero, arrivava a Lecce con tante assenze, tanti infortunati, ma se andiamo a vedere la formazione titolare della Juventus di Acomotta, per me rimane una formazione di qualità, perché Perini importa, Gatti, Danilo, Kovmeners, Locatelli, Cambiaso, Ildiz, UEA, quindi rimane per me una squadra di qualità. Forse appunto quello che è mancato alla Juve sono stati i ricambi in panchina, però detto questo è una Juventus secondo me con una formazione di tutto rispetto. E nel primo tempo la Juventus sicuramente ha avuto un paio di situazioni importanti, pericolose, i due pali, soprattutto quello colpito da Turam a porta vuota e poi il secondo palo di Concesao, nato da un errore scelerato di Dorgo. Secondo me nel primo tempo è stato un Lecce che ha rischiato, un Lecce che è rimasto sul pezzo, un Lecce che si è difeso, un Lecce forse che è mancato in fase di impostazione ed è mancato di cattiveria negli ultimi metri, perché la Juve più di qualche spazio ce l'ha lasciato, noi non siamo stati cattivi e coraggiosi forse a sufficienza per cercare magari qualche tiro da fuori aria. E poi continuo a ripetere che questo 4-3-3, almeno all'inizio, non mi continua a non convincermi, perché questo è un sistema di gioco che tende ad isolare un po' troppo l'attaccante. Infatti Kristovic quando prendeva il pallone non aveva magari vicino a sede compagni con cui fraseggiare. Infatti l'azione che conferma questa mia idea è quando Kristovic ha preso il pallone al limite dell'aria, c'era stato il tocco di braccio prima, però ha dovuto aspettare 5-6 secondi e poi è arrivato Rafi a rimorchio per cercare il tiro da fuori aria. Continua a ripetere che Kristovic secondo me è un attaccante da modulo a due punte, infatti questo però vi verrà riconfermato nel secondo tempo, quando poi ci sarà il tandem con Ante Rebic, quindi primo tempo che si conclude con lo 0-0. Secondo tempo in cui invece il Lecce ha cambiato totalmente volto, proprio dal calcio d'inizio del secondo tempo, e secondo me Giampaolo ha strigliato bene bene i calciatori negli spogliatoi perché quando sono scesi in campo ho visto i giocatori del Lecce e la loro faccia erano seria, concentrato, come se volessero veramente mangiarsi il pallone. Infatti è stato così perché abbiamo aggredito subito la Juventus, abbiamo alzato notevolmente il baricentro e questo ha portato a creare veramente tante tante situazioni pericolose, è vero più di qualche tiro che abbiamo fatto è stato alla fine un tiro centrale non pericolosissimo per la porta di Perin, ma abbiamo fatto capire che questo Lecce la partita se la poteva portare a casa. Poi è arrivato il gol della Juventus, che veramente è sembrato come una beffa, perché arriva il gol con un tiro di Cambiaso, Falcone era sulla traiettoria, ma prima c'era stata una deviazione patale da parte di Chialonda Gaspar che con il proprio portiere non si è capito in un paio di circostanze, anche su dei cross defilati Gaspar era uscito quando magari Falcone aveva chiamato palla ed infatti i due si sono dati degli sguardi un po' contrariati, ecco però per fortuna siamo riusciti meritatamente a riportare la gara sui nostri binari. Dopo c'è stato il rischio del tiro di Cobb Mainers su un pallone perso da Gallo, che è uscito poi credo per un problema fisico, infatti poi Dorgo si è andato a mettere sulla sinistra come terzio difensivo e non ce l'ha fatto rimpiangere perché Dorgo è stato onnipresente, sia offensivamente ma anche difensivamente, facendo delle chiusure su Cambiaso non indifferenti ed è stato anche lui importante alla fine per il gol del pareggio perché se non era nasce tutto da un suo pallone recuperato, no da un pallone perso da Cambiaso che forse aveva provato un dribbling e poi il pallone è stato recuperato da Lecce, pallone che va sulla sinistra, Christovic punta Locatelli, lo salta, mette un pallone in mezzo, bellissimo perché non era facile, perché c'erano tanti giocatori della Juve a coprire l'area piccola dove era posizionato perfettamente, al posto giusto, al momento giusto, ante Rebic che trafigge Perin per l'1-1. Anche lì Rebic aveva tutta la porta, invece l'ha messa sul palo del portiere all'angolino basso, mamma mia che rischio, però Sigla è il suo primo gol in giallo-rosso e il primo gol in Serie A da quando è tornato in Italia. Per me strameritato questo gol perché Rebic con Giampaolo, anche Venezia abbiamo visto, è entrato in campo molto molto bene, quindi era solo questione di tempo per il primo gol in Serie A di questo campionato ovviamente di ante Rebic. Ed è un punto importante dal punto di vista morale perché questo ci fa denotare che questa squadra quando gioca così in maniera aggressiva, perché poi Giampaolo ha fatto dei cambi totalmente offensivi per cercare di riprendere la partita, perché giustamente ormai stai perdendo la gara, non hai nulla da perdere, metti in campo tutti i giocatori offensivi che hai, perché praticamente abbiamo concluso con un vero e proprio 4-2-4 con Dorgo sulla sinistra come terzino, Koulibaly che ha dato una mano importante a questa squadra, un ragazzo che si vede magari poco ma il suo lavoro è fondamentale per il nostro gioco, così come Mohamed Kabah che è entrato e ha rivoluzionato il centrocampo con la sua tecnica, con la sua aggressività, a volte con la sua lentezza, però è un giocatore che ci è mancato tantissimo in tutti questi mesi di Serie A, sperando di poter avere anche Pierre Re quando tornerà dall'infortunio al 100%, e poi c'erano Pierotti, c'era Uden e soprattutto Rebic e Kristovic, lo ripeterò allo sfinimento che il modulo a due punte può essere davvero la soluzione, anche questa volta ci ha aiutato a riprendere la gara, perché Kristovic si trova meglio a suo agio con un'altra punta accanto a sé con cui fraseggiare, a mio modo di vedere, per me Kristovic non è un giocatore che riesce a reggere l'attacco da solo. Poi c'era stato anche prima del gol un falo di Danilo da ultimo uomo proprio su Kristovic, lì il difensore della Juve ha rischiato tantissimo perché in altre circostanze, sempre in falli simili, era invece stato estratto il cartellino rosso, non ricordo se forse in un Mila Juventus della scorso anno era successo, ora non mi ricordo però c'ho questo vago ricordo di un fallo del genere in cui era stato estratto il cartellino rosso, vedi l'arbitro ha sicuramente graziato il difensore brasiliano, è vero c'era tanta distanza dalla porta ma rimane comunque una chiara occasione da gol nel mio modo di vedere, secondo me. Però è un pareggio che dà morale, è un pareggio che ci dice che il Lecce sembra essere tornato finalmente un gruppo coeso ed è la cosa secondo me più importante, è un punto che comunque ci fa staccare ancora di più il Venezia, 8 punti e noi siamo a 13, che fa mantenere il distacco con Monza e Como, che si sono divisi nello sconso diretto e la posta in palio, è un punto che ci fa staccare di un punto il Verona, loro a 12, noi a 13, noi avremo la prossima Roma-Lecce, una Roma che con Ranieri secondo me si riprenderà, quindi mi aspetto una gara sicuramente tosta, la Roma avrà la partita difficile contro l'Atalanta questa sera, vediamo un po' cosa succederà e poi prima della fine del giornale d'andata ci saranno due ulteriori scontri diretti con Como e Monza, chiaramente lì bisognerà fare e cercare di portare a casa il bottino pieno. Che dire, vi ringrazio di cuore per aver visto questo video, forza Lecce sempre e alla prossima con nuovi contenuti sulla nostra squadra del cuore ci tenevo a precisare una cosa, Antonino Gallo, che giocatore Antonino Gallo, è che bello essere smentiti su un calciatore, io l'ho criticato i primi tempi, ma è un ragazzo che è veramente cresciuto in maniera esponenziale, quindi bravissimo, 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 Antonino Gallo, orgoglioso di te, godiamocelo fino a quando possiamo, perché secondo me, anche lui l'ha detto, sia Gallo che Dorgo, per me ci saluteranno, speriamo a fine stagione e non a gennaio sarebbe un suicidio per me non indifferente. Quindi, che dire, ancora un buon inizio di settimana a voi, ci sentiamo alla prossima per i contenuti riguardanti Roma-Lecce. Ciao a tutti.